Asteroide D.A. 1.4 Eccolo, il primo del prossimo anno, febbraio 2013, passerà a circa 20.000 km dalla Terra. Non ha niente a che vedere con l'asteroide Nibiru di qualche giorno fa, della burla che è stata fatta e pubblicata sul blog della CNN. Il prossimo 15 febbraio, appuntamento quindi con questo asteroide, piuttosto modesto di dimensioni, 45-50 metri. Differenza dell'asteroide grande quanto il Texas, che avrebbe dovuto minacciare il nostro pianeta fra novembre e dicembre. Pesa 100.000 tonnellate e passerà vicino alla Terra, ma senza creare pericolo, a 22.000 km. In pratica al di sotto dei nostri satelliti, quindi abbastanza vicino, ma non ci colpirà, e soprattutto sarà anche piuttosto difficile vederlo a occhio nudo, ci vorranno comunque dei mezzi appropriati. Alla prossima, tranquilli, nessun asteroide ci colpisce per il momento. Grazie. 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 Grazie.